...sia al consumatore persona fisica, ma insomma gli imprenditori fanno tanti sacrifici. Su Shopify ad esempio, tornando al discorso di prima, quindi delle pagine fatte con i generatori, mettono nella politica di rimborso ad esempio se questo prodotto l'hai preso in sconto, mi dispiace ma non possiamo rimborsarti. Nel senso una clausola posso metterla anche io magari dicendo guarda, io non ti posso effettuare rimborso in alcun modo, però se l'utente lo accetta va bene o c'è per forza, io sopra dei 14 giorni ad esempio, c'è per forza un limite? Sì, ti rispondo, allora per quanto riguarda soprattutto quello che mi dici riguardo tipo l'acquisto di una maglietta in sconto perché erano prodotti in stocco piuttosto che anche prodotti deteriorabili, tra cui ad esempio prodotti alimentari, genere alimentari che si vendono tramite l'e-commerce. Ma attenzione a quello che ti ho detto all'inizio di questa conversazione. L'accettazione da parte del cliente di una mancanza del diritto di ripensamento, quindi del fatto che la società che eroga il servizio, ma parliamo anche della vendita del prodotto, non gli fornirà un diritto di ripensamento, va inserita come clausola vessatoria e la clausola vessatoria stiamo andando sempre in una giurisprudenza che è molto più attenta a queste tematiche. Quindi tu devi dimostrare nella maniera più precisa, cristallina e limpida possibile che l'utente ne ha avuto contezza di quelle clausole vessatorie, le ha lette, sapeva che erano vessatorie, le ha accettate, quindi c'è bisogno del doppio formo, del doppio flag e della possibilità di lettura. E su questo ti voglio direzze due cose. La prima cosa è, ultimamente il COA di Milano, il Consiglio dell'Ordine di Milano, ha dato delle indicazioni sulla base di una sentenza importante di Cassazione dove parlava delle cosiddette clausole abusive, cioè sono delle clausole vessatorie, definite anche abusive, clausole che vanno molto a penalizzare il cliente persona fisica. Nel caso il giudice, in un'ipotesi ad esempio nel caso di specie era il decreto ingiuntivo, cioè la società non era stata pagata, aveva chiesto il decreto ingiuntivo per farsi pagare, il giudice si era accorto che il cliente non aveva avuto contezza delle clausole vessatorie e quindi ha dato ulteriore tempo per difendersi al cliente persona fisica. Però questo che cosa capita? Che se il giudice si accorge che tu quella comunicazione sulle clausole vessatorie al cliente non gliel'hai data proprio, o gliel'hai data ma quello non l'ha firmata, non ha flaggato, non l'ha letta, si aprono tanti scenari, quelle clausole vessatorie sono come non inserite nel contratto. Il consiglio che do, oltre al clic, quindi a far cliccare nel carrello e far aprire un'altra pagina, un pop-up, o un pop-up che si apre in alto con la possibilità di leggere questi termini e condizioni e ho poi l'altro pop-up delle clausole vessatorie, oppure quando clicchi, invece che il link apre un'altra pagina, praticamente si apre un quadratino e tu vai a leggere tutti i termini e condizioni di vendita. Tra l'altro alcuni siti che cosa fanno? Se tu non scrolli col mouse tutti i termini e condizioni di vendita o di acquisto che siano, non ti dà la possibilità di andare a flaggare, ok? E questa è una cosa fatta veramente bene. La problematica dove può sorgere? Può sorgere se poi il tuo e-commerce non va a tenere traccia delle persone che hanno effettivamente flaggato, perché io domani acquisto dal tuo sito, dal tuo e-commerce, e però accetto tutto, è fatto tutto a norma, però tu non hai questa prova, perché non ti vai a salvare l'indirizzo IP, sai, che ha accettato i termini e condizioni in questa data, in questo orario, per quel servizio, e soprattutto se nella email di conferma di acquisto non gli vedi a inserire anche lì i termini e condizioni di acquisto che il cliente ha accettato, ti puoi trovare insomma in problematiche future. Che poi va tutto bene, sinché va tutto bene, no? Come dico io, i contratti e i termini e le condizioni di acquisto servono in fase di guerra, non in fase di pace. Se c'è, insomma, se il cliente acquista e si trova bene, non ti chiede nulla, tu puoi anche essere... Beh, certo, certo. E nessuno ti viene a controllare il tuo sito, se sei a norma o no, però il problema lo hai o in caso di controlli o in caso di richieste da parte del cliente. Però in quel caso, certo, non è che puoi andare nel passato, sai, e te lo fai... Lo fai... No, no, praticamente. Quindi perciò lo devi avere bene sin dall'inizio, perché nessuno conosce il futuro. Poi anche...